Tassi teleka a tutti, io sono Linda Kelsang Santurama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, sua santità dalle lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. La Cina resta 59 tibetani per il possesso della foto di sua santità dalle lama. L'ex prigioniero politico Don Duttorje muore in Tibet. Nel 61esimo giorno della democrazia Issykyong si dice grato ai tibetani all'interno del Tibet. Issykyong informa sua santità dalle lama sulla visita in Ladakh. Issykyong inaugura il busto commemorativo di Nima Tse Tengsing. I tibetani in Svizzera protestano contro le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il rappresentante Ngo Dupceing incontra il vice amministratore dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. Le autorità cinesi hanno arrestato 59 tibetani, tra cui 19 monaci e 40 laici, a Tsawonpo, nella prefettura autonoma tibetana di Karze, nella provincia del Sichuan, la scorsa settimana, per aver conservato immagini di sua santità dalle lama. Secondo i rapporti, la polizia cinese ha arrestato i tibetani dalle loro residenze il 22 agosto, durante vari raid condotti nei mesi scorsi. Alcuni dei monaci restati sono identificati come Lodengcheonglang, Palkyab, Tenzinlose, Pendo, Loshe, Kochuk, Gaten, Sherab, Champel, Talo, Chepal, Sonanghelek e Tamdin Norbu. I nomi degli altri rimangono al momento sconosciuti. Sono attualmente detenuti in una stazione di polizia della contea di Sehshu. Il 25 agosto, tre giorni dopo l'arresto di massa, le autorità cinesi hanno convocato i residenti locali e li hanno avvertiti di non tenere immagini di sua santità dalle lama. Le ispezioni sui residenti della città si sono intensificate nel mese di marzo, dopo la morte di Tenzinlima, un monaco adolescente della regione morto a causa delle torture della polizia il 19 gennaio del 2021. L'ex prigioniero politico tibetano Donduk Torje è deceduto nella capitale tibetana Lhasa all'età di 74 anni. Secondo le fonti, Donduk Torje, che ha trascorso anni dietro le sbarre dopo aver combattuto per i diritti umani del popolo tibetano, è deceduto lo scorso 25 agosto. Mentre la causa della sua morte non è nota, è stato riferito che aveva problemi alle gambe. Il 14 maggio del 1992 fu restato a Nakhchou dai funzionali dell'intelligence di Lhasa per le sue richieste esplicite in merito ai diritti dei suoi compagni tibetani e fu condannato a due anni e otto mesi di prigione. È stato rilasciato nel gennaio del 1995. Nel 61esimo giorno della democrazia tibetana, Isikyong Kempatshering ha ricordato i tibetani all'interno del Tibet e ne ha lodato l'indomito coraggio e la determinazione nel proteggere l'identità tibetana di fronte alla continua attuazione delle politiche repressive della Cina in Tibet. Parlando dell'evoluzione della democrazia tibetana sotto la guida longevirante di sua santità Adele Lama, Isikyong ha detto che la democrazia tibetana ha fatto molta strada dai primi giorni dell'esilio e che la nostra risorsa più importante è mantenere viva la nostra lotta per la libertà ed unire le nostre forze. L'amministrazione centrale tibetana ha celebrato ieri ad Aramsala il 61esimo anniversario della giornata della democrazia tibetana. L'evento ufficiale ha visto la performance dell'istituto tibetano di arti performative, la proiezione del video di sua santità Adele Lama sull'importanza di rafforzare le istituzioni democratiche tibetane, la presentazione di premi e certificate dei studenti tibetani per i loro risultati accademici, il lancio del libro sulla vita di Kialo Tondup, ex Kalonjipa e fratello maggiore di sua santità Adele Lama e infine l'inaugurazione dell'album musicale Ghiarchi dell'istituto tibetano di arti performative. Mercoledì scorso Isikyong Pimpatsering ha informato la sua santità sulla sua prima visita ufficiale recentemente conclusasi in Ladakh e ha aggiornato sull'attività che ha intapreso da quando ha assunto la responsabilità di Isikyong. Questa è la quarta odienza di Isikyong Pimpatsering con sua santità Adele Lama dopo aver assunto la carica di Isikyong nel maggio scorso. Isikyong Pimpatsering ha concluso con successo la sua visita di otto giorni in Ladakh e ha raggiunto Taramsa la domenica scorsa. Isikyong Pimpatsering ha inaugurato il busto commemorativo di Nima Tenzing a Taramsa l'unico scorso. Nima Tenzing era un tibetano che ha prestato servizio nell'esercito indiano ed è morto in un'operazione militare sulla riva del lago Pangong, sventando l'incursione della Cina l'anno scorso. Un busto commemorativo simile di Nima Tenzing è stato inaugurato all'Ehim in Ladakh da Sikyong Pimpatsering nell'ultimo giorno della sua visita alla regione la settimana scorsa. Sabato scorso la comunità tibetana della Svizzera e dell'Ikenstein ha organizzato una manifestazione ciclistica per protestare contro le Olimpiadi Invernali del 2022 in Cina. In onore e rispetto di tutti i martiri tibetani, oltre a tante ciclisti indossavano magliette con impresse le foto dei tibetani che si sono autoimmolati e si sono radunati dalla stazione principale della città di Zurigo al Consolato della Cina. I membri della comunità tibetana hanno chiesto alla comunità internazionale, incluso il Comitato Olimpico internazionale, di ascoltare le voci del popolo soppresso dal regime comunista cinese. Mercoledì scorso il rappresentante Nguodop Tsering e il segretario Tashi Dundup hanno incontrato Anjali Kaur, il nuovo viceamministratore dell'Ufficio per l'ASE dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale e Joey Taylor. Il rappresentante Tsering ha ringraziato l'Agenzia per il suo forte sostegno all'Amministrazione Centrale Tibetana e ha discusso le possibilità di un maggiore finanziamento diretto e la visione del Sikyong della digitalizzazione dell'Amministrazione Centrale Tibetana. Il viceamministratore Anjali Kaur ha assicurato il pieno sostegno dell'Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale e ha spesso la sua volontà di continuare la collaborazione con l'Amministrazione Centrale Tibetana. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.